Questa mattina a Padova è stato inaugurato l'anno accademico della Facoltà Teologica del Triveneto, un momento di riflessione nel corso del quale è stata letta la prolusione del Cardinale Auso Ghisò, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Religioso. Identità europea, globalizzazione, dialogo ecumenico e interreligioso, questi temi principali affrontati in una riflessione intitolata Religioni e fratellanza in Europa oggi, l'esortazione dell'enciclica Fratelli Tutti. In questa prolusione è stato detto che la fraternità costituisce il metodo e l'obiettivo da perseguire nella costruzione di società pacifiche e inclusive, ma è anche la manifestazione di atti concreti per l'integrazione tra diversi e tra paesi ed è l'affermazione che il dialogo, pur non facendo notizia quanto gli scontri e i conflitti, aiuta discretamente il mondo a vivere meglio, molto più di quanto possiamo renderci conto. Mai avrei immaginato di parlare di fratellanza, ha scritto il Cardinale, in un contesto di guerra. A maggior ragione, ancora di più, è necessario che attraverso il dialogo che costruisce la fraternità si risponda all'appello del Papa ad essere tutti artigiani di pace perché la guerra è un fallimento della politica e dell'umanità. Secondo il Cardinale, le religioni lo insegnano da millenni, l'umanità, le persone, i popoli hanno tutti un comune destino. C'è bisogno non di meno Europa, ma di più Europa. Solo un'Europa unita e solidale può affrontare le sfide della globalizzazione. Un'Europa più forte non aiuta solo gli europei, ma è una grande spinta anche per sviluppare la globalizzazione della solidarietà di cui parla il Papa. Si tratta di una grande impresa, ha concluso il Cardinale, in cui il ruolo delle religioni e delle chiese è fondamentale per il bene dei popoli europei e del mondo intero per contrastare i nazionalismi e costruire la pace. Il professore Andrea Tognolo, preside della facoltà, ha illustrato la relazione annuale sulla vita della facoltà stessa che conta 1.653 studenti e studentesse tra la sede di Padova e i 12 istituti collegati nel Triveneto.